Musica Porto Torres in lutto per la scomparsa di un giovane 22enne che ha perso la vita ieri tra le fiamme della sua auto dopo l'urto contro un pilastro. Ieri la festa maggiore del gremio dei falegnami, il rito dell'interego la mattina a Santa Maria con il passaggio della bandiera al nuovo obriere. Laurea onoris causa conferita stamattina dal rettore Carpinelli all'ex presidente dell'associazione mondiale dei veterinari Fauzi Kekrid. KG12 edizione serale ben trovati, edizione che apriamo l'avete sentito dai titoli con una tragica notizia, una tragica fatalità. La pioggia e l'effetto aquaplaning tra le cause dell'incidente della Seat a Rosa che ieri pomeriggio dopo aver urtato un pilastro ha preso fuoco alla guida a un 22enne per il quale purtroppo sono stati vani i tentativi di salvarlo. Alessandro Ortu, questo è il nome del giovane, si stava recando al lavoro intorno alle 17. Sentiamo però la cronaca nel servizio. Una tragica domenica pomeriggio, quella di ieri, Alessandro Ortu, 22enne di Porto Torres, ha perso la vita mentre andava al lavoro. Per una fatalità, la pioggia, inconsueta a maggio e quel maledetto aquaplaning ha fatto il resto. E' morto tra le fiamme dentro l'auto che si è incendiata dopo essersi ribaltata per aver urtato violentemente contro un pilastro del cavalcavia all'ingresso di Sassari, sulla statale 191 che collega Sassari con Alghero, quella nota come della Nurra. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17, quando si stava battendo sulla città un forte acquazzone. Il giovane stava percorrendo la strada che lo avrebbe portato al centro commerciale Oshan, dove di lì a poco avrebbe preso servizio, ma ha perso il controllo della seata rosa di cui era la guida. Due carabinieri del nucleo radiomobile sono arrivati sul posto, hanno cercato di tirare fuori il ragazzo dall'abitacolo, ma le fiamme si sono propagate rapidamente. I due carabinieri hanno rischiato la vita per tentare di estrarre il giovane, ma le prime esplosioni hanno dovuto desistere, allontanarsi dall'auto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che spengono l'incendio. Gli operatori del 118 sono già pronti per i soccorsi, ma per Alessandro Ortu, purtroppo, non c'è più nulla da fare. Una morte così, una tragica domenica pomeriggio di maggio, che sa poco di primavera. Difficile da raccontare, difficile da dimenticare. Ancora cronaca notte di fuoco e di paura in via alla marmora a Osilo. Due autovetture, per cause ancora in corso di accertamento, sono andate completamente distrutte dalle fiamme, che hanno anche annerito la palazzina sotto la quale erano state parcheggiate. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2.30 di ieri per spegnere le fiamme, che si sono estese anche ad un altro mezzo, danneggiandolo parzialmente. Dai primi rilievi sembrerebbe che le fiamme siano partite da un cortocircuito, ma non sono escluse anche altre ipotesi, anche di origine dolosa. Ingenti danni, ma fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. Ancora una cronaca. Sanzionati dalla Capitaneria di Olbia, due pescatori di frodo con 30 kg di cozze a Cala Saccaia. Si tratta di esemplari raccolti in una zona non certificata sotto il profilo della salubrità delle acque e quindi sprovvisti della certificazione che renda il prodotto sicuro per l'alimentazione, in maniera tale da eliminare tutti i potenziali rischi per la salute. Scongiurato così un danno ambientale, ma in particolare un danno per la salute dei consumatori, in quanto, secondo la normativa vigente, i mitili, prima di essere immessi in commercio, devono essere stabulati e sottoposti a rigidi controlli sanitari. Due trasgressori sanzionati con una multa da 4.000 euro ciascuno, mentre le cozze sono state reimmesse nello specchio d'acqua in cui erano state raccolte. Lasciamo la cronaca. Il gremio dei falegnami. Siamo a Sassera. È rinnovato ieri la festa maggiore. Al mattino si è svolto a Santa Maria il rito dell'intrego, con il passaggio della bandiera al nuovo obriere Luigi Iba. Iba. Per noi c'era Luca Fodai. Il gremio dei falegnami ha festeggiato ieri nella chiesa di Santa Maria di Bethlehem il suo patrono San Giuseppe. Al termine della messa del mattino, celebrata dal padre cappuccino Antonio Mula, coadiuvato dal padre guardiano dei conventuali Salvatore Sanna, è stato rinnovato il rito dell'intrego, con il passaggio della bandiera dall'obriere uscente Gianluca Secchi al nuovo obriere maggiore Luigi Iba. L'obriere dei candeliere è invece Francesco Carta. I momenti musicali sono stati eseguiti dal coro dei bambini della parrocchia San Pio X di Lipunti. In serata il maltempo ha concesso una tregua e la processione con il simulacro di San Giuseppe ha compiuto un breve giro nella piazza di fronte alla chiesa, con la partecipazione dei gremi cittadini e le preghiere dei fratti minori conventuali. L'accompagnamento musicale è stato curato dal corpo bandistico Luigi Canepa. La bandiera del sodalizio dei falegnami, in sassarese chiamati Rimaci d'Ascia, è di colore azzurro damascato. Su un lato è posta l'immagine del patrono San Giuseppe, sull'altra quella della Sacra Famiglia, compatrona del gremio. Come gli altri due gremi della vecchia confraria degli Angeli, ovvero Murattori e Picapietre, il colore della bandiera è una tonalità di azzurro, ma in passato è stata anche bianca. Il candeliere, recentemente restaurato, fu costruito dai fratelli Clemente ed esordì alla farada nel 1921, quando il gremio fu ammesso alla discesa dei candelieri. One World, One Health, l'importanza del bene pubblico globale, è il tema centrale dell'Alexio Magistralis, pronunciata oggi all'Università di Sassari da Fausique Creed, al quale il magnifico rettore Massimo Carpinelli ha conferito la laurea honoris causa in medicina veterinaria. Presidente dell'Associazione Mondiale dei Veterinari dal 2011 al 2017, rappresentante FAO in Tunisia, dal 2007 al 2009, Fausique Creed ha sottolineato il peso della globalizzazione nella circolazione di merci e persone. Che Creed, con oltre 37 anni di esperienza nel campo della veterinaria e della salute pubblica, ha sottolineato che entro il 2050 la domanda di proteine animali nel latte e nelle uova aumenterà del 50%. Ecco perché cresce la responsabilità per ogni singolo paese di esercitare controlli sempre più efficaci e severi. E siamo alla pagina di Cultura, conferenza al Museo della Tonara di Stintino, di Gabriele Carenti, archeo-zoologo, sulla storia della salsa di pesce, usata dagli antichi romani, il garum. Vediamo il servizio. Il garum era usato dagli antichi romani come condimento ed è la salsa di pesce più famosa e apprezzata del mondo antico. A ricostruire la storia, sabato scorso, l'archeo-zoologo Gabriele Carenti. La conferenza dal titolo Si fa presto a dire garum, spigolature archeo-zoologiche della salsa più famosa dell'antichità è il primo degli appuntamenti archeologici della stagione. 2018 del Museo della Tonara, che negli scorsi anni ha accompagnato i visitatori in diversi viaggi nell'antichità, dalla Sardegna all'Austria, dall'Egitto a Palmira. A partire dalle fonti letterarie ed epigrafiche, Gabriele Carenti ha ricostruito la storia del consumo di pesce, della sua conservazione e commercializzazione in età romana, in tutto il Mediterraneo e oltre, fino ai confini dell'impero. Una ricostruzione possibile, grazie al recupero di recipienti da trasporto e attraverso altri materiali archeologici relativi alla pesca e al consumo del pesce. Attestazione di primaria importanza sono i resti ossei di pesce riportati in luce dai numerosi scavi archeologici in tutto il mondo. In Sardegna sono stati recuperati frammenti ossei che possono ricondursi alla conservazione del pesce sotto forma di salsa. I residui di garum sono visibili nella sezione archeologica del muto e nel fondo di un'anfora proveniente dal sito sommerso di Cala Reale all'Alzinara. E ora il teatro sabato e domenica al civico tutto esaurito per la commovente commedia della compagnia Bobo Chanel Tutto quello che non ti ho detto per noi c'era Sandra Sanna Tutto quello che non ti ho detto è tutto quello che non ti aspetti da uno spettacolo di Bobo Chanel sabato e domenica è andata in scena una commedia dalle tinte trammatico-nostalgiche che non ha mancato di sorprendere ma soprattutto commuovere il fedele pubblico della compagnia sassarese una serie di monologhi liberatori interpretati da Laura Calvia Elisa Casula e Daniele Coni che è anche autore dei testi molti impegnativi temi affrontati dai rapporti familiari tra genitori e figli spesso interrotti da morti improvvise al bullismo, la violenza sulle donne il bisogno di apparire e inserirsi nella società nella quale non ci si riconosce e infine la malattia la più terribile ma anche come ha sottolineato Daniele Coni la più democratica, il cancro di grande impatto la scenografia sui toni del bianco che di improvviso si illumina di rosso e viola quando si parla di femminicidio realizzata con grande originalità da Mattia Enna in collaborazione con Stefano Pes le luci erano invece di toni grandi tutto quello che non ti ho detto è una galleria di personaggi contemporanei che riflettono sulla propria condizione sul rapporto con gli altri sia che si tratti di un marito un padre o i compagni di scuola e soprattutto un pensiero al femminile una rottura degli argini un modo per riappropriarsi della propria vita e dei propri affetti lontani dalle ipocrisie e dagli orgogli che impediscono di esprimere liberamente il proprio essere un nuovo successo per la compagnia Paco Mustela sabato scorso al teatro ferroviario è stata rappresentata in un doppio spettacolo in tre atti in Sassarese la comedia tratta da una farsa di Peppino De Filippo per noi c'era Luca Fodai Tante risate e tutto esaurito sabato scorso al teatro ferroviario per la doppia rappresentazione di Maisiveghi Arubindaciu il nuovo spettacolo della compagnia Paco Mustela guidata dal regista Pierangelo Sanna una commedia in tre atti tratta dalla farsa Non è vero ma ci credo scritta da Peppino De Filippo nel 1942 riadattata con una lettura originale nella variante linguistica sassarese alternata all'italiano dallo stesso Pierangelo Sanna e da Paolo Salaris Ottimo nel loro del protagonista il commendatore Sebastiano Solinas tormentato dalla superstizione e che per far andare bene i suoi affari assume un giovane gobbo Alberto San Maria al quale dà in moglie la figlia Rosina nella convinzione che la presenza in casa e in azienda di un genero con quel difetto fisico porti solo fortuna In realtà San Maria non è altri che il giovane di cui Rosina era sempre stata innamorata e la falsa gobba era solo un artificio per consentirgli di entrare nelle grazie del futuro suocero rimasto raggiratto ma che alla fine cede ai desideri dei due giovani Bene anche gli altri interpreti Chiara Ara nella parte di Teresa moglie del commendatore Solinas e Monia Mancusa in quella della figlia Rosina e poi Paolo Pintore un buffo e sovrappeso avvocato Masia Monica Anelli Fabio Masala il finto gobbo Leonardo Marras il ragioniere servile Salvatore Pinna e Andrea Vuolo nel ruolo di Pinducciu personaggio che nell'ultimo atto nell'aspetto riprendeva quello tipico dell'oggettatore dei film con Totò Le scenografie sono state realizzate da Monia Mancusa che ha curato anche il trucco I costumi che riportavano indietro agli anni 40 erano di Anuska Montis Ed ora la musica domani al Teatro Comunale di Sassari un ospite d'eccellenza Fabio Concato si esibirà con l'orchestra jazz della Sardegna il cantatore ripercorrerà 40 anni di carriera artistica Sentiamo Il jazz incontra la musica d'autore martedì 15 maggio al Teatro Comunale di Sassari alle 21 con un ospite d'onore Fabio Concato cantoattore italiano amatissimo dal pubblico per il suo stile elegante e ironico Il progetto OJS Meets Fabio Concato presenterà composizioni del musicista milanese arrangiate per l'orchestra jazz della Sardegna da Gabriele Comeglio che sarà anche il direttore della formazione sarda Il progetto mira a mettere in risalto le componenti jazz presenti in molte composizioni di concato con arrangiamenti che disegnano per ogni brano una nuova veste fatta di piani orchestrali e di sound delicatamente rarefatti Il viaggio musicale intriso dei ricordi del cantautore ripercorrerà una carriera artistica lunga 40 anni in cui sono inseriti sia i primi grandi successi che i brani più recenti di concato filtrati attraverso nuove atmosfere musicali jazz tutte da scoprire Questo progetto spiega concato nasce come evoluzione naturale del mio lavoro perché il jazz fa parte da sempre del mio mondo musicale e la prima musica che ho ascoltato conosciuto ed amato Tra i brani inseriti nella ricca scaletta Domenica Bestiale Buonanotte a te La mia macchina Quando arriverà Fiori di maggio Guidoppiano Rosalina Sexy Tango Gigi Mercoledì 16 maggio il cantautore si esibirà al Teatro Massimo di Cagliari Ed ora del 150esimo anniversario della sua morte magistrato politico storico e scrittore uomo legato alla sua terra d'origine la Sardegna sulla cui storia ha scritto un'opera in due volumi alla Filippelli difficile compito di raccontare e ricostruire la storia di un personaggio che pare dimenticato dai suoi concittadini algheresi l'artista lo ritrae in un intenso scatto fotografico trionfante tra le onde del mare simbolo della città naturale del politico ma anche cifra stilistica della vasta produzione dell'artista e soprattutto nel mare che la figura di Giuseppe Manno e la poetica della Filippelli si incontrano nell'installazione video passaggi Roberta Filippelli concentra l'obiettivo sul mare luogo di passaggio punto limite che divide e unisce due terre la Sardegna e il Piemonte nel cui capoluogo Manno visse fino alla morte il fascino di queste immagini scrive la curatrice della mostra Mariolina Cosseddu si coglie nella multimedialità delle proposte che si soffermano sulla superficie dell'acqua sui confini ai vasti orizzonti cari all'uomo lontano della sua terra costantemente presente nei propri ricordi ma prosegue la Cosseddu Roberta Filippelli supera la tristezza e la retorica degli anniversari interpretando Manno in una visione ludicamente pop glitter t-shirt e gadget si mescolano con gli oggetti della casa museo restituendo al visitatore una visione del personaggio tra memoria mito e interpretazione artistica la mostra è visitabile da lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e ora ci fermiamo per un breve break pubblicitario torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva restate con noi a lontano a lontano Grazie a tutti. 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 A rivederci.